L'ho fatto pensare noi che siamo ancora molto arzenti e in giro, le poesie del Signore Mendes quanto me sono una forza che può dare forza a chi sta fuori, perché voi la forza dovete prenderla da voi stessi, da dentro. Ecco, noi abbiamo bisogno delle sollecitazioni per avere stimoli a vivere la nostra vita non solo in funzione di noi stessi, ma in funzione degli altri. Il circolo fotografico, io so che ci sono molti fotografi che sanno fotografare e qui lo si vede, perché devo dire che la scelta è una scelta molto buona, la qualità di queste immagini, soprattutto i bianchi e neri per la forza che hanno in sé, i colori perché c'è una scelta, un utilizzo del colore molto particolare e soprattutto c'è dentro lo spirito del fotografo. Quindi non sono le fotografie che sappiamo fare tutti quando siamo in giro e continuiamo a scattare, sono fotografie pensate e questo collegamento con le parole è sicuramente importante perché fa capire che il pensiero si trasforma in vari modi, può diventare un'immagine, può diventare una parola, può diventare semplicemente un sorriso. Ecco, questo è quello che auguro a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti e buona giornata di festa.